Come contattare la Guardia Costiera in caso di emergenza? Per informazioni è disponibile il portale ufficiale www.guardiacostiera.it dove è possibile scaricare tutte le ordinanze emanate dalle autorità marittime locali e quindi prendere cognizione di quelle che sono le norme vigenti. Trovare anche consigli utili sull'operazione Mare Sicuro nell'apposito box proprio intitolato Mare Sicuro e qualsiasi altra informazione utile sia a bagnanti e a diportisti o a coloro che in qualche maniera si devono avvicinare al mare o devono effettuare delle pratiche connesse con determinati tipi di attività.